Io veramente aspettavo, e Rossata ha già avvertito che sarebbe venuto un signore della CEA a cambiare il contatore. Rosa ha 88 anni e vive all'infernetto con suo marito. È qui che alcuni giorni fa un uomo le è entrato in casa e con la scusa di controllare la presenza di sostanze tossiche nell'acqua, l'ha derubata dei risparmi e dei ricordi di una vita. Che cosa le ha fatto mettere nel frigorifero? I soldi. I soldi e l'oro. Quindi ha detto prenda i soldi, l'oro li nasconda nel frigo. Lo mette nel frigorifero, perché sennò quando facciamo questo contatto, dice si squaglia tutto. Ma noi facevamo tutto quello che diceva lui, sembravamo due rimbambiti. Capito? Abbiamo fatto così, quando mi ha detto, dice vada dentro al bagnetto suo, guardi bene quando l'acqua esce sporca, dice lei me lo dice. Quando io mi sono girata lui già era andato via. Con tutte le cose che stavano nel frigo. Tutto. Ma non c'è solo Rosa, negli ultimi tempi tra l'Infernetto, Acilia e Casalpalocco sono stati tanti gli anziani avvicinati da truffatori senza scrupoli. E anche il caso di Enzo, che su via di Castelporziano è stato raggiunto da un automobilista che ha provato a simulare un incidente. C'era una macchina con una donna incinta. Stavo portando mia moglie all'ospedale, lei mi ha impedito di portare mia moglie in ospedale. Ha avuto invece la prontezza di riflessi di stringersi il borsello al petto Mauro, avvicinato da una donna che fingeva di conoscerlo sempre allo scopo di derubarlo. Beh, scendo dalla macchina per entrare in casa, mi si avvicina una ragazza, una giovane ragazza, ovviamente carina, che facendo finta di conoscermi chissà da quanto tempo mi abbraccia. Ah, ma come stai bene? Tanto tempo che non ti vedo, ti sei ingrassato. E mentre mi ha abbracciato, mi ha baciato così, io dico signorina forse ma lei non si sbaglia, io non la conosco. Una situazione preoccupante che ha spinto il comando provinciale dei carabinieri ad organizzare degli incontri con gli anziani. All'Infernetto il passaparola è iniziato grazie alla collaborazione di padre Stefano e del comandante della stazione di Casal Palocco. Per esempio, nemmeno se citofonano delle persone che dicono di essere carabinieri o poliziotti e non hanno una divisa, per esempio, non devono aprire. I carabinieri, forse dell'ordine generale, quando si presentano a casa vanno in divisa. Non viene qualcuno a casa a prendere i soldi della bolletta? Assolutamente no. Le persone cosa devono fare? Chiamare sempre i carabinieri, la polizia, insomma chi vogliono quando hanno un sospetto, giusto? 112, 112 e li mette a riparo. Una telefona da lunga la vita.